Una delle dottrine insegnate dall'Organizzazione dei Testimoni di Geova, a mio avviso una tra le più devastanti e pericolose, spiritualmente pericolose si intende, è quella secondo la quale Gesù Cristo sia il Mediatore della Nuova Alleanza primariamente per i 144.000, primariamente per i loro unti, e poi di riflesso anche per la cosiddetta grande folla o altre pecore, quelle secondo cui, in base all'insegnamento dei Testimoni di Geova, dell'Organizzazione dei Testimoni di Geova, è quella che ha la speranza, la destinazione di vita qui sulla Terra. Sono stati già fatti dei video sulla infondatezza scritturale della doppia destinazione, quella celeste e quella terrena per chi crede in Cristo, ma l'Apostolo Paolo, nell'Epistola agli Efesini, al capitolo 4, scrive chiaramente che c'è una sola speranza, una sola fede, un solo battesimo, una sola vocazione, quella celeste. Non ci sono due speranze, due destinazioni, due battesimi e quant'altro. Quindi, per chi non avesse visionato quei video, invito a visionarli. Adesso, al di là di questo però, quindi assodato che la dottrina della doppia destinazione è una dottrina non scritturale, ovviamente, Ieri mi è andato l'occhio su una domanda dai lettori riportata nella Torre di Guardia del 15 agosto del 1989, alla pagina 30. La domanda dai lettori era in base a che cosa si può stabilire, insomma, di chi è il mediatore del patto, primariamente, Cristo Gesù. E ovviamente vi risparmio tutti i sofismi arzigocolati per arrivare alla risposta finale, se volete potete andarvelo a controllare da soli. Però l'aspetto che a noi interessa della risposta che l'organizzazione Torre di Guardia dà a questo lettore che pone questa domanda è la seguente, è quindi chiaro che il nuovo patto, attenzione a cosa dice qui l'organizzazione, non è una disposizione approssimativa aperta a tutta l'umanità, attenzione, queste sono parole delle quali l'organizzazione dei testimoni di Geova se ne assume la completa responsabilità. Non è una disposizione, ripeto, non è una disposizione approssimativa aperta a tutta l'umanità. È un provvedimento legale, attentamente predisposto, che coinvolge Dio e i cristiani unti, i loro santi. Quindi avete capito cosa dice qui l'organizzazione geovista? che il nuovo patto, la nuova alleanza, non è aperta potenzialmente a tutti, indiscriminatamente a tutta l'umanità, ma solo ai cristiani, è una cosa che riguarda Dio e i cristiani unti. Quindi in questo senso si fa passare Gesù come il mediatore, solo e primariamente, diciamo, tra Dio e gli unti. Poi di riflesso anche per quanto riguarda, abbiamo detto, la grande folla, sempre secondo l'insegnamento dei testimoni di Geova. Ma questa è una dottrina, abbiamo detto, devastante, pericolosa per la salvezza. E adesso vi dimostrerò perché. Vi leggerò delle scritture, qualche scrittura, che ho preparato per questo video. E ve le leggerò, questa volta userò la Diodati, che è tra le versioni migliori in italiano che esistono in circolazione della Bibbia. Leggiamo Giovanni 3,16 innanzitutto. Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, il versetto 16. Ricordiamo, la torre di guardia dice che questa disposizione vale primariamente tra Dio e i 144.000, in sostanza. Vediamo cosa dice Gesù Cristo, lo stesso Signore Gesù, in Giovanni, Evangelo di Giovanni, capitolo 3, il versetto 16. Scrittura che, peraltro, i testimoni di Geova conoscono molto bene, spesso la utilizzano, ma senza rifletterci più di tanto. Qui dice, perciò che il Dio ha tanto amato il mondo, il mondo, che egli ha dato il suo unigenito figliuolo a ciò che chiunque, attenzione, chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi, la salvezza della nuova alleanza è data non solamente ai 144.000, o primariamente ai 144.000, ma a chiunque crede in Cristo. Chiaro? Leggiamo anche Giovanni 17,3, scrittura anche questa molto conosciuta nell'ambiente dei testimoni di Geova. Qui Gesù dice, in Giovanni 17,3, Quindi, anche qui comprendiamo che la vita eterna, la salvezza, dovuta appunto alla nuova alleanza, è per chiunque crede in Cristo e conosca appunto il vero Dio. Ancora, sempre Vangelo di Giovanni. Giriamo qualche pagina, andiamo al capitolo 12, il versetto è il 32. Qui è sempre Gesù che parla e dice, Ed io, quando sarò levato in su dalla terra, quindi quando risusciterò, morto e risuscitato, trarrò tutti a me. Non fa distinzione Gesù. Gesù dice chiaramente che la sua morte e la sua resurrezione, che sono l'espressione massima del nuovo patto, della nuova alleanza, è potenzialmente a beneficio di tutti. Perché dico potenzialmente? Non perché dipenda da Gesù, Ma dipende da noi, singolarmente, se accettare o meno Cristo Gesù e avere fede nel suo nome. Perché la salvezza è tutta lì. Non c'è altro da fare. La salvezza è quella. Perché l'apostolo Paolo, in Romani 10, il versetto 9, dovrebbe essere, se non ricordo male, dice, Se con la bocca avrai confessato Gesù Cristo come Signore e avrai fede che Dio lo ha resuscitato, che è morto e che Dio lo ha resuscitato il terzo giorno, sarai salvato. Al versetto 13, sempre del capitolo 10 dell'Epistola ai Romani, Paolo dice, Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Quindi tutti potenzialmente, invocando il nome di Cristo Gesù, che è l'unico nome per la salvezza, Atti 4.12, non Geova, ma Gesù Cristo, chiunque invocherà il nome di Gesù Cristo sarà salvato. Questa è la condizione per la salvezza. Ma è aperta a tutti la possibilità. Ancora vogliamo vedere cosa dice sempre l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani, questa volta al capitolo 1, il versetto 16. Romani 1, versetto 16. Perciò che io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, conciossi a che esso è sia la potenza di Dio in salute ad ogni credente, al Giudeo prima, poi anche al Greco. Quindi avete notato la salvezza della nuova alleanza è aperta a chiunque crede, al Giudeo e al Greco, che rispettivamente rappresentano il residuo di Israele salvato, che accetterà Gesù, e il Greco rappresentano i gentili, tutti quanti coloro persone delle nazioni che hanno accettato Cristo nella propria vita e che fanno parte della sua Chiesa. Oppure, vogliamo vedere la seconda epistola ai Corinti, seconda lettera ai Corinti, al capitolo 5. Seconda Corinti, capitolo 5. Il versetto 18 è scritto «Or il tutto è da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione». Qui l'Apostolo Paolo non fa distinzioni. Dice che Dio ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo. Chi è che è riconciliato con Dio? Lo capiamo dal versetto 17. Chi diventa una nuova creatura in Cristo perché dice se dunque alcuno è in Cristo egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate ecco tutte le cose sono fatte nuove. Quindi chiunque accetta Cristo nella propria vita diventa una nuova creatura rinasce da acqua e di spirito come dirà lo stesso Gesù poi a Nicodemo nel Vangelo di Giovanni è salvato e beneficerà di questa nuova alleanza entra a far parte della famiglia di Dio diventa suo figlio o sua figlia per adozione per mezzo di Cristo e questo è aperto a tutti a tutti perché l'abbiamo visto prima chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. in Prima Timoteo 2.4 l'Apostolo Paolo scrive che Dio vuole che tutti 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 gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Quindi attraverso queste scritture comprendiamo che la dottrina dell'organizzazione dei testimoni di Geova ve la ripeto vi rileggo la risposta alla domanda dai lettori Torre di Guardia 15 agosto 1989 pagina 30 l'abbiamo letta all'inizio abbiamo dimostrato con le scritture come stanno in realtà le cose adesso ve la rileggo così che possiate capire che sapore ha questa dottrina se è un sapore dolce o un sapore amaro per chi la riceve ripetiamo la Watchtower l'organizzazione dei testimoni di Geova la società Torre di Guardia insegna questo è quindi chiaro che il nuovo patto non è una disposizione approssimativa aperta a tutta l'umanità che non sia approssimativa siamo d'accordo ma infatti perché bisogna accettarla nella nostra vita questa disposizione per questo non è approssimativa ma non è affatto vero che non sia aperta a tutta l'umanità questa è una bugia ed anche pericolosa per la salvezza è un provvedimento legale attentamente predisposto che coinvolge Dio e i cristiani unti è per questo che ogni anno quando va in scena la commemorazione della morte di Cristo quest'anno ci sarà di nuovo ai primi di aprile nell'ambito delle congregazioni il testimone di Geova sono la minoranza quelli che consumano il pane e il vino la maggior parte dei presenti il pane e il vino se lo fanno passare senza consumarlo vi invito se avete ricevuto un invito a presenziare a questa commemorazione il mio consiglio la mia esortazione è quella di non andare poi ognuno è libero di fare ciò che vuole ma di non andare perché è un evento che agli occhi di Dio non ha nessun valore perché a causa di queste dottrine la stragrande maggioranza milioni di testimoni di Geova ogni anno quando c'è questa cerimonia rifiutano il pane e il vino rifiutano rispettivamente solamente passandoselo il corpo e il sangue di Gesù Cristo anche in questo e anche inerentemente a questo tema è stato fatto un video su questo canale se la commemorazione della morte di Gesù così come viene svolta nell'ambito della congregazione dei testimoni di Geova è scritturale oppure no per chi non l'ha fatto invito a visionarlo state molto attenti stiamo molto attenti a ciò che ci viene insegnato accertiamoci sempre che sia conforme alla parola di Dio perché nella migliore delle ipotesi potremmo trovarci ad avere a che fare con dottrine umane di uomini nella peggiore delle ipotesi con dottrine pericolose dottrine diaboliche pericolose grazie per la nostra salvezza grazie vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando ai prossimi video e vi invito per i prossimi video grazie buona giornata